Allora, benvenuti ragazzi, oggi i nuovi su youtube sono Sam Sabine dove faremo i quiz su vero o falso diciamo che parlano di una cultura generale, diciamo adesso andiamo a vedere subito qui c'è una massa divertente allora prima la 1 questa qua, vai 3, 2, 1, vai Sam Sabine il fiume Nilo non passa per secondo Cairo, vero Bucharest non è la capitale della Bulgaria, vero Lorenzo Cherubini, noto come Giovanotti, non è nato in Italia che vuoi dire Giovanotti, diciamo che non so la storia, è un cantare che non me ne frega della sua vita ovviamente ma secondo me è impossibile, non è nato in Italia vabbè, dopo tanto la domanda che vorrei andare a controllare Porca vacca, ma che domande come hanno fatto la serie Walker Texas Ranger a colpa di agonisti Ranger Ranger Walker interpretato da Jack Norris falso Alan Turing venne eletto Presidente degli Stati Uniti vero Michael Jackson ricevete il premio nobile almeno 902 apri bene di Gesù, dai fammi fare 6 su 6 questo quiz, dai controllo no porca vacca 2 su 6 ma non si può fare così facciamolo un altro, dai allora andiamo avanti 1 2 il sole gira intorno alla terra falso è il contrario perché la terra è che gira intorno al su quindi gira intorno al su il sole gira intorno alla terra falso giuri che è un motopolitico italiano falso i vegani non escludono dal loro stile di vita tutti i prodotti di origine animale per esempio per esempio mangiare il formaggio falso il sismografo è uno strumento che viene utilizzato per registrare i fenomeni sismici sismici allora fermi ragazzi uno non lo so come si dice si dice sismografo o sismografo ma che strumento è ma che viene utilizzato per gestire i fenomeni sismici allora i fenomeni sismici lo dovete chiedere ai scienziati io non so qua mi mi diciamo che sono un tipo da scienziato perché i fenomeni sismici li fanno gli scienziati diciamo o qualunque altro ma io come faccio a rispondere a questo romano non conosco il cosessimo smografo i fenomeni sismuroso se mettiamo a cazzo questo domanda da porca vacca ma mecca domande che mi vado a trovare mettiamo via se mi trovo ad ostia mi trovo ai due passi a Firenze falso il museo dell'uvi si trova a Firenze falso si meglio di prima raga 6 su 6 a quella prima ho fatto 2 su 6 e qua si è andato meglio 6 su 6 vai la cava tutte pochette promosso solo bene qua promosso tutte giuste sono sono la bestia qualche volta nei quiz dobbiamo fare quella della patente però che sono quella mares quando si tratta di queste cose almeno qualcosa la so porca madonna no 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 un altro quiz facciamo e chiudiamo veramente il video quiz su netflix diciamo questo va facciamo questo va a fare questo qua da allora quando credi di sapere sull'universo netflix quando cagamo netflix molto conosciuta eh quando è stata puntata l'azienda netflix all'agosto 1997 vai continua quale da quale serie tv non è originale netflix luther vai vai son sabine no mio dio mi ha dato una domanda che non so quale è stata la prima serie prodotta da netflix house of cards quale da questi attori non ha preso parte ad un prodotto originale netflix iniz mc oh ma porca vacca vero vento agli u molesta nato bene uno in cominciamo a sbagliare quale è diva questo il film più costrusso organizzato da netflix C'è, sento, non è il più costoso. Un'amacchia più costoso, quello più mercato, cioè, come si dice, più mercato, cioè, che costa meno. Se no, è un'amacchia. No. Mannaggia a me, mannaggia. Sto facendo una figura di merda, eh. Guarda, questa attrice non ha preso parte ad un prodotto originale Netflix. Emma Watson. Dai, porca Madonna, che ce la devo fare, dai! Quale è questo? Non è un film originale Netflix. Questo. Age of Tomorrow, che sento domani. Continua. Ne ho dovuto venire a 5 su 7. Bah! Beh, voi sono andati bene. Qua... Qua ballano, guarda. Sono... Sono convertiche. 5 su 7, dai, su... Questa domanda. Sono un grande. Vabbè, la... Poi, non mi... Non mi sto mandato da solo, eh. Sono un grande a fare i quiz. Ma è buono, lo sappiamo fatte. Vabbè, vi saluto, da. Poi, se c'è da fare un altro quiz, lo facciamo al prossimo video. Abbiamo finito il video, ragazzi, mettete sotto, mi piace, nei commenti, iscrivetevi al mio canale se siete ancora iscritti e attivate la famosa campanellina per ricevere le nuove notifiche sui miei nuovi video. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima settimana! Grazie.